Musica Nell'ultimo periodo amici miei non è per niente semplice trovare delle applicazioni ma come ben sapete io non mi arrendo anche perchè secondo me le app sono proprio quelle cose essenziali da avere su un dispositivo perchè vi permettono di fare determinate cose e magari aiutarvi nel quotidiano e quindi ne ho trovate ben 10 alcune per android altre per ios secondo me molto interessanti e come sempre fighe ci sono proprio delle chicche ma non perdiamoci in troppe chiacchiere sapete bene cosa fare per supportare questa serie di video quindi like iscrizione nei commenti di demila vostra ma adesso partiamo con la prima applicazione di oggi la prima applicazione di oggi si chiama Ruppu ma cosa fa? Beh in poche parole vi permette di avere sempre sotto controllo informazioni o comunque note task link app semplicemente con uno swipe questo perchè andrà ad inserire nel pannello delle notifiche una mini finestra se possiamo dire tipo notifica con cui poi potete successivamente andare ad interagire l'applicazione secondo me oltre ad essere molto semplice è anche molto facile da utilizzare basta infatti entrare nell'applicazione e tappare sul più in basso a destra scegliere cosa volete aggiungere tra nota, task, posizione, qr, app, link, contatti e immagini settare il tutto e poi con un semplice tap sulla spilletta potete pinnare il box e ritrovarlo poi successivamente con un click nelle notifiche o comunque nel pannellino delle notifiche io la trovo veramente molto interessante, utile ed è un applicativo che potrebbe dare ancora più senso a quello che è il pannello delle notifiche oltre a racchiudere tutte quelle che sono le cose che effettivamente vi arrivano sulle varie applicazioni quindi notifiche effettivamente avere magari promemoria e link sempre a portata di mano se utili può tornare veramente comodo poi fatemi sapere la vostra sempre qui sotto nei commenti la seconda invece è disponibile per iOS e si chiama Dime le mie pronunce sono sempre bellissime quest'ultima è un'applicazione gratuita creata da uno studente sviluppatore che semplicemente vi dà magari la possibilità di supportarlo con una piccola donazione molto interessante come iniziativa ma cosa fa? beh vi permette di gestire in modo veramente semplicissimo entrate e uscite una tipologia di applicazione che può sembrare stupida per alcuni ma che in realtà sono anni che mi aiuta veramente tantissimo nel controllo delle spese e non solo, anche per quanto riguarda proprio il budget generale io utilizzo nello specifico Money Manager che comprai tempo e tempo fa ma ora è diciamo sotto abbonamento purtroppo e quindi non è che ve la consiglio tantissimo perché è un abbonamento che dovete aggiungere in più ma questa può essere veramente un'ottima alternativa per semplicità di utilizzo e anche per proprio estetica una bella user experience ecco infatti è realizzata secondo me in modo veramente interessante è anche curato quindi veramente semplice voi potete aggiungere appunto entrate o uscite e poi vi farà sempre all'applicazione un piccolo resoconto molto interessante e dategli una possibilità perché è veramente carina Abit Builder invece è l'applicazione che vi straconsiglio se avete uno smartphone Android e volete tenere traccia delle vostre abitudini questo perché è molto carina esteticamente anche in questo caso è semplicissimo ad utilizzare aggiungete semplicemente in questo caso delle abitudini quindi date un nome e scegliete il colore e il gioco è fatto e nonostante appunto sia gratuita appunto rispetto ad altre che vi mettono abbonamenti magari pesanti sotto vi da già tutti i parametri di controllo e tutti i resoconti utili proprio a capire come state andando e come state tenendo diciamo queste abitudini nel corso del tempo secondo me è veramente molto interessante minimal, pulita e molto ben pensata e quindi poco da dire provatela e poi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate Session invece è un'applicazione disponibile per iOS che ho scoperto puramente a caso durante la scrittura di un video sulla produttività che poi vedrete sul secondo canale ma anche questa cosa vi permette di fare? beh in poche parole vi permette di attivare un timer per ogni attività che desiderate provando ad aiutarvi in questo caso o comunque in questo modo a mantenere la concentrazione limitando l'utilizzo dello smartphone non è un'applicazione che incide sul funzionamento dello smartphone vi permette di fare tutto senza alcun problema ma in generale secondo me risulta molto valida se volete capire al meglio quanto tempo impiegate nel portare a termine determinati task ne parleremo sicuramente meglio anche sul secondo canale magari poi fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti ma per il momento provatela e poi fatemi sapere Folder Widget è un'app veramente figa non solo per chi ama le personalizzazioni su Android ma anche per chi semplicemente vuole ottimizzare al meglio le proprie schermate home ma anche in questo caso cosa fa? beh vi permette di creare queste cartelle che contengono al loro interno più applicazioni accessibili ovviamente con un click occupando di base meno spazio possibile senza però perdere ecco l'immediatezza dell'accesso all'applicazione sono gestite secondo me molto molto bene lato dimensioni e vi permette anche nella versione gratuita di modificare e settare al meglio il tutto in base a quelle che sono poi le vostre esigenze semplice da personalizzare semplice da utilizzare e con tante geek interessanti come per esempio la possibilità di aggiungere delle scorciatoie che vi permettono di accedere a determinate funzioni di determinate applicazioni molto interessante e secondo me bella bella da scoprire Abstract e Anime Wallpaper sono di base due applicazioni che potete scaricare per personalizzare il vostro smartphone con dei wallpaper un po' diversi oh mi raccomando entrate nel gruppo dell'element che pure lì vi consiglio e soprattutto vi condivido i wallpaper che disegno io con le mie manine tutte per noi ma comunque tornando al nostro discorso ecco la prima applicazione quindi Abstract è disponibile per Android e vi fornisce una serie di wallpaper di ottima qualità con colori veramente belli accesi e diciamo di base visto anche il nome non è che vi da tantissime categorie però ci sta certo per diciamo sbloccare tutto avete bisogno di un piccolo abbonamento però già così va benissimo e ve la consiglio se volete magari un qualcosina di diverso ci sono comunque delle soluzioni interessanti mentre Anime Wallpaper è un'applicazione disponibile per iOS in questo caso che offre dei wallpaper un po' di nicchia quindi wallpaper appunto a tema anime ci sono veramente tante soluzioni anche in questo caso purtroppo l'applicazione non è completa nella sua versione gratuita ma già così vi permette di fare belle cose riesce a dare tante soddisfazioni ragazzi le applicazioni completamente gratuite sono difficilissime da trovare quindi dobbiamo un po' adattarci ma oggi comunque con queste applicazioni penso di aver trovato una bella quadra poi fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti oh e se avete app da consigliare beh fatelo perché è fondamentale Stradio invece è un'altra applicazione molto interessante è in poche parole un launcher veramente figo per Android perché punta al minimalismo e alla concentrazione è un'applicazione che vuole andare un po' verso tutti i miei amici pazzi per la produttività che però riesce a dire la sua anche per la presenza di alcune funzioni che magari anche mentre che ne so state studiando possono migliorare la vostra concentrazione comunque posso dare ecco delle soddisfazioni in generale un po' a tutti tra le funzioni interessanti abbiamo la presenza di un pannellino dedicato alle note con un semplice swipe sempre accessibile molto interessante per prendere note al volo veramente bella come idea ci sta applicazioni ben divise in categorie e di facile accesso che tra l'altro sono proprio pensate per diminuire in un certo senso quelle che sono le distrazioni possibilità di mettere le applicazioni in bianco e nero proprio per lavorare ancora meglio su questi ultimi appunto su questi ultimi caratteristiche quindi sempre sulla concentrazione e widget di facile accesso tramite sempre un piccolo pannellino non è super personalizzabile non ci sono tantissime funzioni particolari per la prestituzione è un diciamo launcher che punta al minimalismo e alla produttività se possiamo dire ma ci sta secondo me va provato uno sguardo non fa assolutamente male una cosa che vi devo segnalare è un piccolo bug che se gli mettete un widget dopo per toglierlo a volte è veramente un inferno però dettaglio voi provatelo fatemi sapere magari poi la disinstallate è veramente leggerissima come app ci sta touch the notch invece è un'app stupidissima ma allo stesso tempo anche fighissima certo costa un euro se volete proprio sbloccarla a 100% ma per il prezzo se siete abbastanza pazzi come me per le prestituzioni ci sta un piccolo test che cosa vi permette di fare beh vi permette di attivare delle funzioni all'annoccio o comunque alla goccia che avete in alto nei vostri dispositivi android in che senso beh in poche parole tramite l'applicazione assegnate al tap della goccia dell'annoccio che sia una determinata funzione che può essere che ne so chiamare qualcuno attivare un'applicazione attivare la fotocamera attivare la torcia e una volta fatto voi tappate su e si fa quello che si deve fare cioè l'applicazione vi manda diciamo vi attiva ecco la scorciatore che avete impostato è una cosa che mamma mi fa strappare no però se volete diciamo fare ecco una personalizzazione leggermente più interessante con delle chicche nascoste questa è un'ottima applicazione poi un euro ragazzi ci sta so cioè vi conosco so che come me amate le personalizzazioni e questa potrebbe essere quella chicca che vi è da quella marcia in più al vostro dispositivo ve lo rende un po' più unico fatemi sapere poi la vostra qui sotto nei commenti ultima ma non per importanza VLLU dovrebbe chiamarsi sì non lo so ma comunque è un'app disponibile per IOS che permette in poche parole di editare i video di applicazioni che si concentrano sull'editing video ormai ce ne sono tantissime veramente non finiscono più di uscire però è interessante in questo caso perché è semplice utilizzare e ha una gestione della timeline un po' particolare divise in tante piccole parti sempre di facile accesso e tutto sommato seppur non completamente gratuita come un po' tutte le app ormai ci potrebbe stare e ve la inserisco soprattutto perché al suo interno ha una serie di pacchetti di effetti transizioni e non solo veramente interessanti ce ne sono poi tantissimi e per chi ha le prime armi e vuole fare qualcosa di diverso con lo smartphone ci sta secondo me è da valutare come applicazione come soluzione detto questo però siamo arrivati alla fine di questo video mi raccomando qui sotto nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate like iscrizione e preparatevi ad una nuova serie di video settimana prossima è normale ogni settimana un nuovo video sempre di mercoledì boh perché il lavoro mi sta prendendo tantissimo quindi non lo so ma è tutto scritto non mi preoccupate ci vediamo fatemi sapere la vostra un bacio e un abbraccio vi voglio bene ciao